ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi parliamo della mega patch 1.6 che deve speriamo presto uscire per automobilista 2 ragazzi non è che me l'ero persa però l'avevo letta distrattamente questa diciamo questo annuncio di questa patch 1.6 e non mi sono reso conto di quanto fosse imponente importante questa futura patch annunciata da raiza nel loro sito ufficiale in cui proprio dichiarano che sia l'aggiornamento più grande significativo mai visto per questo titolo ragazzi pensate che a maggio hanno rilasciato questa prima parte di mega aggiornamento in modo tale che tutte queste novità venissero assimilate dagli utilizzatori e poi sarebbe stata rilasciata un'altra diciamo seconda parte a giugno ma non è così non è stato così non hanno rilasciato nulla quindi però già quello che dichiarano nella prima parte acquolina in bocca ragazzi e da quello che ho sentito e letto probabilmente dovrebbe uscire proprio a settembre speriamo che raiza mantenga fede a quelli che sono diciamo le tempistiche sappiamo sono un po lunghetti comunque stiamo parlando di una patch 1.6 ragazzi che coinvolgerà tutti i settori del gioco audio video fisica contenuti premium interfaccia utente e si parla più là anche di una modifica per quanto riguarda il multiplayer insomma ragazzi tante 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 novità iniziamo subito con una prima novità ragazzi nuovi marchi premium in arrivo su automobilista 2 perché infatti come è stato annunciato a marzo scorso il team di sviluppo ha stretto un accordo con la imsa che permetterà di includere la maggior parte se non tutte le auto presente in quel campionato il winter tech sport car championship 2024 per poter arrivare a questo obiettivo gli sviluppatori hanno stretto un accordo di licenza con non meno di sette marchi ragazzi e di marchi automobilistici prestigiosi oltretutto con ulteriori trattative ancora in corso alla data diciamo di quella che era stata la dichiarazione di reiza quindi a maggio quindi pensato un po ecco perché hanno fatto prima parte seconda parte eccetera questa espazione quindi non solo arricchirà il campionato attuale 2024 ma rafforzerà anche le griglie delle categorie già presenti su automobilista 2 molti di questi marchi prestigioni si verranno appunto svelati con la 1.6 e gli altri più in avanti quindi uno deve essere un po paziente però intanto la diciamo la notizia più eclatante secondo me per quanto riguarda i marchi è finalmente arriva Audi arriva Audi ragazzi sappiamo benissimo che c'è una storia pazzesca questo marchio automobilistico che non ha bisogno di presentazioni che arriva veramente a gamba tesa nel parco auto di automobilista 2 con un Audi A4 V8 ragazzi una vettura iconica che ha dettato legge nei primi anni 90 per quanto riguarda il campionato DTM vincendo ben due campionati consecutivi con Hans Joy Kim Stack sarà giunta quindi gratuitamente alla classe gruppo A già esistente e quindi sarà presente come contenuto base del gioco insieme a questa bellissima auto storica l'Audi R8 LMS GT3 ragazzi che porterà il motore del fascino del V10 nelle classe GT3 generazione 1 e anche sta disponibile come contenuto gratuito a seguire l'Audi R8 LMS Evo 2 ragazzi insieme ad altre quattro vetture GT e prototipi che farà parte dell'Endurance Pack 2 previsto in uscita sempre con la 1.6 ad un prezzo che si dovrebbe aggirare intorno ai 9,99 dollari un altro contenuto che mi fa impazzire a me perché è la mia pista preferita ragazzi verrà introdotta finalmente Road Atlanta ragazzi Michelin Raceway Road Atlanta questa è una delle piste più iconiche del campionato IMSA che si unirà già agli altri circuiti presenti come Daitona, Laguna Seca, Long Beach e Road America ragazzi mamma mia ovviamente questo farà parte dell'IMSA Track Pack anch'esso previsto con il rilascio della 1.6 al prezzo stimato di 14,99 dollari ovviamente poi vedremo in euro quanto vorranno e quindi di conseguenza ragazzi già solo la 1.6 in termini di contenuti promette molto bene un'altra cosa che mi ha fatto balzare dalla sede che l'ho riletto due volte ragazzi è che con la 1.6 verrà revisionata di nuovo la fisica ragazzi lo sappiamo che un aspetto cruciale di ogni simulatore di guida è la fisica hanno veramente lavorato duramente per migliorare ulteriormente la fisica che vi ricordo che era stata completamente stravolta con la 1.5 e che aveva già introdotto una revisione significativa di questa fisica che era molto piaciuta anche se erano rimasti comunque dei problemi critici nel monerello dei pneumatici e infatti questa patch apporta delle correzioni e apporta miglioramenti all'aerodinamica alle sospensioni di diverse vetture con la 1.6 quindi che cosa succede? è stata sviluppata con piloti reali e utenti hardcore cioè quelli che fanno la beta insomma che testano gente insomma tosta infatti la sensazione del pneumatico di AMS2 con la versione 1.5 è che sembravano ancora troppo permissive e tolleranti verso una guida estrema quindi per risolvere questo problema che cosa hanno fatto? hanno dedicato tantissimo tempo alla modellazione dell'isteresi dei pneumatici cioè quell'elemento chiave che determina quanto profondamente un composto di gomma può penetrare nell'asperità della superficie della pista mantenendo l'aderenza al massimo per più tempo anche se non così vasta come la 1.5 la revisione della fisica nella 1.6 rappresenta un'evoluzione ragazzi altrettanto significativa ora i pneumatici a detta di Reisa dovrebbero apparire più connessi attivi ed una volta che iniziano a scivolare la finestra per mantenere il controllo l'hanno ridotta e quindi di conseguenza diciamo che si ha questa sensazione di un pelino più di difficoltà rispetto a quella che era la permissività che concedeva la 1.5 sono stati rivisti anche i modelli termodinamici dei pneumatici insieme al fenomeno del flat spotting quindi lo spiattellamento l'usura e i tassi di degrado sia dei pneumatici da asciutto che pneumatici da bagnato una cosa che mi fa letteralmente impazzire è dove sono andati a diciamo cercare il dettaglio i ragazzi di Reisa con la 1.6 introdurranno la possibilità di monitorare visivamente lo stato dei pneumatici un aspetto molto importante soprattutto a ruote scoperte che vedi quello che succede ma sentite un po' il dettaglio il battistrata del pneumatico sarà modellato fisicamente in una griglia di 22 segmenti longitudinali per 6 laterali ciascuno con proprie proprietà dinamiche di usura e danno questo permetterà di visualizzare l'usura differenziale tra le diverse sezioni del pneumatico in base a fattori come la pressione del pneumatico l'angolo di gamber e la natura del tracciato lo stesso vale per i flat spot cioè gli spiattellamenti che possono accumularsi in segmenti diversi della gomma 22 e 6 laterali ognuno con profondità diversa e causando deformazioni specifiche del pneumatico influenzando così prestazioni e feedback che si avvertirà appunto dal force feedback ragazzi è pazzesco cioè se tu fai due spiattellamenti su due sezioni diverse del pneumatico le sentirai e influenzeranno quello che è la fisica di guida ecco di che cosa parlava Renato ecco di che aspetta che ancora avete visto niente capito inoltre non è finito perché aggiornamenti futuri porteranno altri tipi di danni ai pneumatici sia fisicamente che graficamente e sarà introdotta una nuova opzione per limitare il numero di set di pneumatici disponibili per quanto riguarda il weekend di gara rendendo ancora più cruciale la gestione dei pneumatici da parte del pilota e qui si vuole veramente entrare nella simulazione ragazzi ma che il parco chiuso siamo a posto ovviamente la 1.6 non si ferma qui come vi dicevo perché oltre a tutto questo che già è fantastico oltre ai contenuti già citati ovviamente saranno migliorate l'intelligenza artificiale con un comportamento migliorato per quanto riguarda diciamo la difesa in caso uno lo dover superare e le bandiere blu oltre a progressi significativi nel multiplayer e in più ci saranno altre migliorie come ad esempio ogni tracciatore avrà le luci dei box per segnalare quando i box sono aperti o chiusi altra cosa figa e per informare i piloti in uscita della presenza o meno di traffico in arrivo tutti i veicoli del simulatore riceveranno la revisione per aumentare il livello di dettaglio incluso un miglioramento di parabrezza che ora presenta diversi livelli di tinta riflessi, graffi visibili e persino impronte digitali oltre a questo anche gli effetti particellari sono stati ulteriormente migliorati con nuove animazioni per il fumo dei guasti meccanici dei pneumatici rendendoli più realistici questo ragazzi ci fa capire il livello di perfezionamento dei Reiza che veramente qua sta a livelli stratosferici e questa è solo la prima parte incredibile ragazzi un plauso ai Reiza perché tanto loro sono fedeli alla loro parola e sono sicuro che presenteranno una patch straordinaria cosa aggiungere ragazzi ditemi che cosa ne pensate su questo su questo mega aggiornamento previsto dai Reiza lasciatemi un pollice in su se questo video vi è piaciuto condividete in massa questo video e ragazzi iscrivetevi al canale come al solito attivate la campanellina e noi ci vediamo prestissimo nella speranza di poter testare subito tutto sto ben di Dio che Reiza ci proverrà da Fabrizio è tutto un abbraccio ciao ciao